Ciao a tutti, Enrico si è qua Offscreen, ho fatto l'orso e ho trovato la tomba che veniva indicata nella statua qui in Arthro Tomba secondaria di Auriza Questa è quella primaria Dai Ho visto che ci sono i vasi qui dentro Dunque che ho farmato che quelli con il coperchio bianco fanno bomb Porca puttana Alla prossima dunque luce io pariolo da qua non si vede, non si vede niente ok un teletransporto qui ok siamo sempre qua dentro ok dall'alto adesso il basso non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche basta. Che cazzo è? 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 Che cazzo? Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo? Che cazzo è? 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 Oh Che cazzo è? Che cazzo è? un vasi kamikazze ok ok andiamo prima da questo oia ah rispavano oh no no oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 No. No, no. Grazie a tutti. 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 Ok. No. 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 Dove ti porta questo? E l'ho chiesto. Sì sì. no ah no ah Grazie a tutti. Dunque, questa è la parte prima. Grazie a tutti. 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 Ok. L'abbiamo trovato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yes. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Chissà. Chissà. Ok. 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 Sì 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 Non l'ho mai trovata Sì 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 Ehm Aspetta Sì 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 l'altro vabbè sti cazzi no oh cristo santo vai vabbè sti cazzi 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 nooo ma cristo mi tocca rifarlo ottima ok 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 Cosa ne so cosa è? Ok, dunque il boss è qua. Ah, mi devo buttare. Allora. 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 Vediamo se posso fare una cosa. No. Non c'è qua. Allora. 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 Eh, vi avevo visto. Allora. 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 è davvero grande vuoto è la niente draw return al per forza draw return al per forza Nave Ok, un po' particolare in questa galleria Oddio si Dimmi che Non è un teletrasporto Ecco perché si dilatta Ebbe Chissà cosa c'è Dunque mi metto Non è un bel anzio Ai Se è di zk sto coso Non è vero Non è vero Allora Non la proverò Immagino che non possa usare adesso Non possa entrare Non la proverò Che calma Con la luzina dietro Un orizzonte Non c'è un volum E' un mito diriccanti Grazie a tutti 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 Ok, zona ripulita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, ok Grazie a tutti 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 Bene Grazie a tutti Qua Tutto è tutti Oh, sì, non è Comunque quell'arena Mi ha ricordato quella del Dermone Della Forza Del DLC Di Dark Souls 2 Dunque Qua Lucefo 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 Mi ha visto? Se io mi buttassi qua sotto Adesso Lucefo 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 Luce Lucefo Luce Lucefo Lucef 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho un dejavu. Ecco la... Qua se stava il vermone alieno. Che figo! Le cose sono interconnesse. Oh... Ok... Grazie a tutti Il boss sarà un profumiere? Eh, ne ho 65 Il boss sarà un profumiere 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 Ammazza questa presenza si chiama Tutto qui Intento soltanto 3CK con un doppio full Con un doppio scarabbeo Tutto qui Qua mi ero dimenticato di fare una parte Quella col ponte di legno Ma il ponte di legno dove sta? Non è come di scuro Penso sia qua E' quello Ok 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 Lui? Si era un po' confuso Non aspetta là in alto Ah, qui non c'è niente qua Non c'è niente qua Non c'è niente qua Non c'è niente qua Ok 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 Mi sentento che manca la capitale e basta Le tombe degli eroi di Nash Adesso per la fine del gioco non le voglio fare adesso Ah cristo Poco del coso sale Mi sento e mi sale Passa mezz'ora Poco del coso sale Ok notte Quasi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' di rune. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok. La capitale inizia per davvero ora. Ok. 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 che aiuti tantissimo basta non ho soltanto un po di tempo ah di qua si si va e la boc boc the seamster ready to make adjustments to your garment non 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 Grazie a tutti. 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 Tira a leva. Grazie a tutti. Ok, tutto attivo adesso. Ma aspetta... No, aspetta. No, aspetta. Allora, le cose sono due. Oh, vado giù. Oh, prendo il trasporto. Oppure... Posso fare una ricerca... Mi deciderò per la prossima live. No, non, non, non... Bye, bye. Bye, bye.